E salve a tutti ragazzi, sono Catalonico451 e siamo tornati qui su... Battlefield Play for Free sulla mappa Dragon Valley con la nostra serie sulle armi più carichi che mai Perché? 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 Perché l'arma che vi propongo oggi, come la state intravedendo ora, scusate Eccola qua, è in tutto il suo splendore il notissimo SMG P90 Se non mi ricordo male è una mitraglietta di produzione belga Diciamo che è particolarmente nota, oltre al fatto che è comunque presente in molti giochi noti Come esempio Battlefield o COD Anche se mi sembra che l'ultimo dove sia spuntato il P90 sia... Un po' di gente, eh? E sia MV3, perché su Black Ops 2 non c'era Forever Mina Vabbè, qui però c'è un po' di casino Comunque, come volevo dirvi Arma nota Mamma mia Perché ha il caricatore posto in orizzontale sull'arma ma soprattutto è in cima all'arma Non magari sotto come di solito Eh, per le armi Quindi, è il P90 che come... Insomma Che come ho già avuto modo di dire alcune volte È stata la mia prima arma Perché alla prima pescata di Kartas Battlefield Play for Free Ho vinto per sempre l'SMG P90 Spot a caso, ci piace così Così magari prendiamo 10 punti se siamo fortunati È stata la mia prima arma E siccome Dragon Valley è stata la mia prima mappa Allora volevo assolutamente, diciamo, fare questo... Questo mix perfetto, diciamo, ritorno ai vecchi tempi In cui ci aggiravamo più nabbi che mai Anche perché considerato che Battlefield Play for Free È stato il mio primo FPS Quindi, diciamo, pur essendo consapevole del fatto che sia... Che, insomma, sia pieno di difetti Tuttavia c'è questo legame affettivo verso Battlefield Play for Free Che mi tiene legato comunque a questo videogioco In ogni caso, lasciando parte la parte melenza Direi di continuare Dunque, per ora stiamo facendo un punteggio pessimo Quindi, vediamo un attimo di buttarci un po' più nel vivo dell'azione Soprattutto perché vedo che A è contesa Quindi, ah, e lì c'è un... Vediamo di taggarlo prima di tutto No, come abbiamo perso pure C No, dai, ragazzi Ah... E non mi ha dato neanche l'assist Maledizio Uh, ecco un nemico L'ho intravisto Eccolo Mamma mia, la mira che se ne va La mira che se ne va Ma sono da solo? Diciamo che se ci fosse qualche, diciamo, compagno di sventura Eh, vabbè, ragazzi E gli sono rimasti 46 Vabbè Comunque vorrei parlare anche un attimo più... Più, diciamo... Tecnicamente dell'arma Quindi, giusto per dirci qualcosa Almeno da giustificare questa serie E magari non come live a scazzo Ma come qualcosa che, diciamo, vuole proporsi vagamente più serio Dunque, l'SMGP90 Come potete vedere ci si viaggia abbastanza bene Non oscura la visuale Non è invasivo Ehm... Ci si, appunto, ci si corre bene È un'arma comunque media Cioè, è un'arma buona Non è niente di eccezionale Quindi non aspettatevi chissà quali miracoli Ovviamente non lo centro Non aspettatevi miracoli No, perché non mi ha... Eh, vabbè Minchia Aspetta che mollo qui una mina Così se magari ci entra un babbione Riesco pure a farci una kill con distruzione del mezzo Comprese nel prezzo Però qua... Sentivo gente fomentata, non so Ah, eccone un po' Mamma mia, no, 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 no Mi sono incartato sulla roccia Oh 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 I need a medic Oh, ma c'è un... Un carro su D? Ma i nemici hanno B? No, non hanno B Allora perché c'è il carro lì? Ok, comunque a questo punto portiamoci verso... D Sparando random Yes Così ci piace Così ci piace E appunto come stavo dicendo Un'arma media Io la trovo buona Non è niente di stellare Però Diciamo che Sa sicuramente dire la sua Adesso Cerchiamo di Arrivare a capo della situazione Qua c'è mica qualche nemico Anfrattato Infrattato Che è anfrattato Mi sembra di no Allora direi che Possiamo buttarci senza indugio nella mischia Perché ci hanno preso B Quindi Dobbiamo assolutamente Porre rimedio a questa cosa Ok Non so cosa fare Innanzitutto curiamoci a sto punto Perché Cosa c'è un elicottero? Sì è un elicottero Dai che lo becco No L'hanno seccato prima che Il mio RPG potesse arrivare A sto punto Potremmo fare qualcosa di pro E cercare di andare verso B Dai 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 Andiamo verso B Che siamo presi bene Non mi ricordo quante mine ho Quante mine mi siano rimaste Quindi Non rischiamo troppo Perché al massimo vorrei tenermi una mina Quando sarò su B Se riuscirò ad arrivarci Perché Come avrete sicuramente potuto vedere Vabbè questa partita non sta neanche andando tanto male Perché Insomma Le partite prima avevo fatto cose discrete Ma Non Avevo fatto un punteggio troppo basso Cioè il ratio era discreto ma il punteggio troppo basso Quindi Adesso Sperando che non mi sgamino Perché qua io ora sono bello bello Comunque se da D volete scendere su B Questa è la strada migliore Cioè quella dove È Meno facile Che vi cuzzino Tanto qui sento nemico Amici che viaggiano Eccone uno Lasciamolo andare via Non è qua Mercoledì Vabbè ragazzi Mannaggia la pupazza Vabbè Diciamo che ci può stare Avrei dovuto andare di coltello Lo so Però Non Non sono proprio abituato Ad usare il coltellino Francamente Non ci ho mai fatto l'abitudine Cioè Ogni tanto Ricordo che ce l'ho Ogni tanto mi ricordo Intanto qui arriva Oh ma l'ho spottato a caso Dai che lo cuzzo Dai che lo cuzzo Non l'ho cuzzato Dai che non si è staggato Ma perché non lo becco Comunque questi elicotterini Guarda Questi scout Sono Mannaggia a loro Molesti Molesti Dai Adesso Tornerà sicuro Perché Ok no Però ora siamo salvi Allora distribuiamo La nostra dose quotidiana Di mine Mine per tutti Ok Qui una mina c'è già Ma questo elicottero Che ho intravisto È nemico? Sì Spariamoci un RPG Sperando di Ovviamente Non lo becco Dai 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 Che esplode No Merda Ok Vabbè Questo è proprio random Dai Prendetelo questo Cosa Andate su D Che A questo punto Desso che siamo Nella bratta Ci conviene Provare ad andare Su A Mentre magari Qualche anima Pia Prova Ad andare Mannaggia A me E poi Critico Ovviamente Critico Mannaggia Che rabbia Dov'è? 4-4 ora Dov'è? L'elicotterina È lì Dai Che stiamo perdendo In maniera ignominiosa Ce l'avevamo in tasca Ok Abbiamo Ci siamo ripresi Una base Adesso Un attimo Ok Qui mi ricarico Vabbè Veicolo distrutto Questo tipo È qua O è di qua Oppure Me l'hanno seccato Molto probabilmente Me l'hanno seccato Soltanto che Devo ricaricare No Non devo ricaricare Molto meglio Ma siamo sempre Perdendo eh Allora Vediamo di farci Una corsetta Adesso guarderò Di qua E verranno Ad armi Di lì Dunque Mi sembra Per ora Si è sgombro Oh dov'è Mannaggia a lui Vai Cuzzami da dietro L'albero Guardalo lì Scusate ma Questi sono momenti Proprio di camping Estremo Dietro al Ma guarda te Che schifoso Cioè che oddio Povero ragazzo Fa anche quello Che deve fare È forte però Vederlo sbarrettare E non mi becca Che pessimo Adesso verranno Ad armi Ok Posso curarmi Non è che l'avete Fatto fuori Magari Che Farese soltanto Un piacere No Io lo sento Ancora sbarrettare Tipo Sentilo Come sbarretta È troppo Un grande Questo tipo Adesso dobbiamo Avere un Botto di culo Abbiamo Un botto di culo Dai Cazzo Vabbè Qui ora Diciamo che abbiamo Vita breve Vabbè Ragazzi Io ho fatto Il possibile Bisogna dirlo 5-5 Vabbè Dai che L'omino Yes Molto bene Molto bene Oh grande Mago Mi ha anche salvato Il sedere Ti ringrazio Hai tutta La mia gratitudine Magari te lo scrivo Anche No È saltato Per aria Dov'era? Ma no Era già sulla bandiera Mannaggia L'aveva fatta In fretta Ma se provassimo Ma come Abbiamo ancora perso Il controllo Di D Dai che stiamo Vincendo Comunque In ogni caso Direi che Ormai Il video È finito Ormai Siamo proprio Agli ultimi Distanti No Dai Stiamo vincendo No beh Com'è possibile C'è rimasta Solo una base Ragazzi Ma oh Che cosa succede Dai Su Andiamoci a prendere Almeno D Guardalo Lì Finisce Che pareggiamo Maffa Mannaggia Finisco pure in negativo Abbiamo vinto Vabbè Comunque In ogni caso Il video Direi che possa finire qui Spero vi siate divertiti Ci vediamo Ad un Prossimo video Ciao 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 in Ciao Ciao Grazie a tutti.